ciao amiche di filo oggi vi propongo un'idea facile da fare con carta modello gratuito per realizziamo un organizzatore per borsa un organizzatore un po particolare pensato soprattutto per le borse da spiaggia per le borse dopo che portiamo in palestra e così via insomma per le borse aperte quindi mi raccomando guardate tutto il video lasciate un bel like e se vi interessa scaricate anche il carta modello perché completamente gratuito quindi vediamo tutti i passaggi io utilizzerò dei ritagli di stoffa per altri peraltro abbinati fra di loro inizio preparando le cintine quindi sono due e la misura di queste scinte è di 6 per 30 centimetri posso stirare eventualmente così a metà e poi di nuovo ripiego così il tessuto fino alla metà schiaccio per bene ovviamente su tutta la lunghezza e poi richiudo così e poi faccio due cuciture parallele per bene ovviamente su tutta la lunghezza e poi faccio due cucchiai ecco qui le due centine quindi due cuciture parallele su tutta la lunghezza metto da parte questo e adesso preparo le due tasche allora prendo quindi questi due pezzi di tessuto possono essere uguali o abbinati hanno la stessa larghezza in particolare di 28 cm per quanto riguarda l'altezza questo primo è di 16 questo qui invece di 21 cm quindi la differenza è di 5 cm li vado a preparare quindi questa parte alta qui la vado a ripiegare in questo modo per circa mezzo centimetro su tutta la lunghezza e poi la ripiego così vi faccio vedere in questo modo qua perché comunque non deve essere eccessivamente precisa questa piegolina ovviamente se volete potete misurarla e farla con più precisione però si fa tranquillamente anche così anzi potete stirare e preparare il tessuto e fare poi una cucitura con il punto dritto stessa operazione si fa su questo lato qui su questa parte alta di quest'altro tessuto anche in questo caso faccio una cucitura con il punto dritto blocco il punto preparato sia questo pezzo come vedete rifinito in alto stessa cosa su questa parte qua quindi sovrappongo la parte non rifinita questa qui in basso la metto così la faccio coincidere la blocco quindi decido adesso quante tasche fare posso fare una cucitura centrale e fare quindi solo due tasche posso decidere di fare una tasca più piccole una grande o fare tre tasche della stessa misura di misura diversa il procedimento in realtà sarà sempre lo stesso si dovrà prendere la distanza dal bordo nel mio caso ecco farò una tasca di considerate che qui ci sarà un ulteriore cucitura quindi la mia tasca finale sarà non di 12 ma di 11 cm in questo caso quindi se voglio fare una tasca di 11 mi metto a 12 cm aumentando il centimetro che mi serve per la cucitura ecco faccio due segnetti e poi li unisco sto facendo con una matita perché su questo grigio non si vedrà altrimenti utilizzate una penna cancellabile che andrà via voi con il calore e quindi faccio la cucitura su questa linea blocco per bene il punto qui dove inizia la cucitura tre o quattro volte fondamentale bloccare per bene qui la cucitura e poi ecco qua pronto questo adesso io ho preparato questi altri due tessuti che hanno la stessa misura e sono di 28 x 28 cm quindi sono due quadrati 12 possono essere uguali o diversi vi dicevo io sto utilizzando dei ritardi quindi li ho fatti diversi e poi anche questo è di 28 x 28 cm ed è un pannolenci leggero che però serve per dare un pochino di consistenza quindi posiziono questo poi metto il lato che voglio vedere diciamo che rimarrà a vista sistemo questa parte qui quindi alla fine risultato finale sarà sostanzialmente questo quindi vado a far coincidere su qui alla base e poi su questa parte alta individuo il centro quindi 28 per me sarà 14 e da questa mi metto tipo a 6 cm di qua e a 6 e qui posiziono in questa maniera la centina e la posizione da questo punto verso l'esterno la faccio sporgere anche un pochino verso la parte interna in modo che poi si fisserà per bene questa lo stesso modo la sistemo così e la metto qua sempre la faccio sporgere per qualche millimetro blocco con una cucitura e su questa parte di bassa faccio coincidere per bene e anche in questo caso faccio una cucitura quindi ho bloccato questo e poi ho fatto un punto dritto qui in basso per sistemare tutto insieme tutto il blocco insieme qui l'ho lasciato aperto adesso metto l'altro pannello dritto su dritto e faccio una cucitura tutto attorno qui sulla base lascerò un'apertura di circa 10 cm sistema per bene prima di fare la cucitura metto per bene e faccio coincidere il tutto anche di qua ago in basso e giro nell'altra direzione ago in basso e nell'altra direzione vedete cucitura su tutto il contorno qui in basso c'è l'apertura prima di girare sul diritto elimino questi angoletti così e poi se questa parte qui effettivamente rimane più diciamo che può dare problemi quando giriamo ecco si può eliminare in questo modo e si fa ovviamente su tutto quanto questo contorno quindi eliminate tutte queste volte qua procedo a girare sul dritto poi se necessario portare gli angoletti non con questa punta ma con qualcosa di meno appuntato ecco qui bene adesso sono pronta per ribattere il contorno in realtà questa è un'operazione opzionale importante chiudere questo a mano o con la macchina per cucire e a questo punto io direi se non volete fare la ribattitura perché casomai sono tanti strati e volete evitare questo passaggio potete farlo a mano oppure se fate la ribattitura su tutto quanto il contorno questa si chiuderà in automatico ovviamente la ribattitura sarà vicinissima al bordo decidete voi quello che che preferite io la farò a mano per fare questo vi lascio il tutorial perché già c'è sul canale quindi non ve lo faccio rivedere di nuovo chiusa questa parte qui vado ad applicare due bottoni vi consiglio di utilizzare dei bottoni di almeno 2,5 cm cioè abbastanza grandi io avevo questi utilizzerò questi e li posiziono proprio qui alla base di queste cintine a circa due centimetri quindi a due centimetri qua metto uno spillo la stessa cosa poi farò di qua e quindi posiziono il bottone così a partire da dallo spillo quindi questa è la posizione dello spillo a partire dallo spillo posiziono il bottone blocco prima il filo e quindi inizio ad applicare questo bottone vedete lo applico così ti faccio entrare più volte il filo sul retro lo faccio passare attraverso quest'altro forellino ed ecco qua questo lo posso togliere un po qui terminato vado in questo modo lo faccio passare più volte così lo blocco 1 2 e poi faccio così ed ecco qua bottone applicato anche quest'altro in corrispondenza a due centimetri applico l'altro l'organizzatore per borsa è pronto adesso vi faccio vedere come si colloca e come vi mette tutto bene a portata di mano ora questa è una borsa aperta che si può utilizzare per il mare peraltro è un tutorial che abbiamo fatto qualche tempo fa come vedete molto capiente riciclando jeans riciclando ritagli di stoffa vi lascio ovviamente il tutorial quindi mettiamo tutte le cose sparse all'interno però per mettere casomai cellulare portafogli e quant'altro è possibile fare agganciare questo al manico della borsa questo a quest'altro manico qui e quindi abbiamo un bello organizzatore che rimane all'interno della borsa ovviamente agganciate così poi se necessario potete mettere anche un punto di cucitura in base al bottone che avete quindi fare proprio una solina precisa però vi garantisco che con il peso va bene così e quindi potete mettere il i vostri accessori sulla tasca qui il cellulare un piccolo portafogli quelle cose che volete avere a portata di mano quindi la vostra borsa rimane la stessa si vedrà solo questa parte qui e poi avrete insomma un bello organizzatore una bella tasca che potete staccare ed applicare su un'altra borsa casomai per andare a fare la spesa oppure oppure insomma per portare le cose necessarie con voi io la trovo un'idea veramente carinissima utilissima soprattutto in vista dell'estate dove casomai cambiamo ecco dalla borsa da spiaggia a quella per andare a fare dei piccoli acquisti quindi la smontate e la rimontate subito su un'altra borsa le misure finale il cartamodello tutte le altre informazioni ve le lascio qui ovviamente nella casella delle informazioni come sempre vi chiedo di mettere un bel like per questo progetto facile dedicato alle principianti scaricate il cartamodello vi mando un abbraccio grandissimo vi aspetto al prossimo tutorial ciao ciao